Ciao ragazzi, la Sampocane, come vedete sono qua con il sacco a pillo, era nel mio studio, fuori c'è una dieve schifosa, ma noi non ci interessa perché abbiamo la nostra stufa spettacolare, il nostro sacco a pillo è di farlo letto speciale, la nostra luce è un po' vicino al letto, ma comunque c'è anche un'altra luce, abbiamo il nostro bagno tattico e tutto, perciò noi qua siamo specialmente lontani da ogni bestia infame che vi dà fastidio e da ogni disturbo sociale, l'unica cosa è che qualche cugnone è tirato da quattro amici di prima, avevamo un anno cinese, ma vabbè, soffroniamo, ci vediamo al prossimo video ragazzi, Adesso dormo perché domani ho un intervista, qualcuno farò una domanda e mezza, perciò speriamo di riprendermi su le cinque adesso, le cinque, ci vediamo al prossimo video, ciao ciao da Sandro Cane, Sandro Cane.